questo giardinetto abbiamo fatto da noi io sono venuta, ho fatto i giardini a mie spese non è balza la pena abbiamo fatto da con noi la signora a lei è venuta però qui dovete stare attento a chi vi dice perché adesso lui mi ha detto che vogliono fare ma hanno detto che c'hanno solamente 2.000 euro e poi io non pago 2.000 euro quella volta che siamo in giù l'hanno pulito quel bene, buttata via l'erba l'hanno pulito, l'hanno pulito però l'hanno fatto a pulire qui a mio soppino di giardino guarda, sulle finestre lui doveva dire, ringraziamo Dio se ci sta qualcosa con 2.000 euro per fare cosa le piace da dire? cosa le piace da dire? cosa pensate che le manco? quello pure a me poi ci stanno interessi tanti interessi è sempre vedo che l'hanno pulito all'inizio Grazie per la visione!